C'è l'onorevole Federico Caffiero De Rao, che saluto e ringrazio per essere qui. Buon pomeriggio. Buonasera. Lei oggi è un onorevole, ma ha ricoperto un ruolo istituzionale a dir poco chiave per il Paese, cioè è stato il procuratore nazionale antimafia dal 2017 fino al 2022. Lei ha, col suo operato, sicuramente collaborato a questo arresto con il grande lavoro che gli inquirenti e le forze dell'ordine hanno fatto per arrestare il superlatitante Matteo Messina Denaro. Le chiedo qual è stato il suo primo pensiero anche nell'ordine di questi anni complessi che ha dovuto vivere a capo dell'antimafia. Innanzitutto un messaggio di ringraziamento al generale Pasquale Angelo Santo e a tutto il Rosso, ma alle forze di polizia che hanno portato avanti per anni le attività investigative, al procuratore di Palermo, a Maurizio De Lucia, che ha sviluppato un'attività ugualmente di grande importanza. Perché è importante questo arresto? È importante innanzitutto perché è stato arrestato l'uomo che ha portato avanti l'eredità di Totò Riina, un'eredità importante soprattutto nel periodo delle stragi continentali, ancora prima nella partecipazione alle stragi di Via D'Amedio, nella strage di Capaci. È stato l'uomo che ha fatto i pedinamenti a Roma quando Falcone ricopriva l'incarico presso il Ministero della Giustizia. È stato colui che nel 1993, quando Torrino venne arrestato, ha preso le redini di quella organizzazione sotto il profilo del sviluppo della strategia stragista. Ed è un riferimento storico per Cosa Nostra. Era l'unico uomo ancora latitante con un ruolo apicale. Apicale e storicamente di grandissimo spessore. E quindi diciamo che questo arresto è un arresto di grandissima importanza per lo Stato. È un arresto di grandissima importanza che sul territorio ha i suoi riflessi. Finalmente lo Stato è stato capace di catturare il latitante più importante per il nostro Paese sotto il profilo del contrasto alle mafie. E anche i cittadini riconoscono in questa operazione fiducia allo Stato. Ed è importante quindi. È importante perché egli costituiva il riferimento peraltro di Cosa Nostra non solo nella gestione organizzativa strutturale militare ma nella gestione economico-finanziaria. Era cioè il riferimento principe. È evidente che con il suo arresto non abbiamo sconfitto Cosa Nostra. Sicuramente l'abbiamo indebolita. Ma questo significa che impegnarsi nelle indagini con intercettazioni, attraverso dichiarazioni, attraverso tutto ciò che sono i metodi che gli strumenti legislativi hanno introdotto è fondamentale. Fondamentale. Onorevole, lei mi ha parlato quindi di un boss della mafia evoluto. Non siamo di fronte a un analfabeta che mangia pane e cicoria. Stiamo parlando di un uomo che conosce delle dinamiche e che quindi è un boss 4.0, la parte più evoluta della mafia. Certamente. Lei ha proprio qualificato esattamente il personaggio. Un boss 4.0. Cioè è il rappresentante di una mafia che è proiettata nel mondo economico. Una mafia che ha cambiato volto ma che è a forse ancora più pericolosa per i guasti che determina nel mondo economico, per le relazioni che riesce a stringere, anche indirettamente, per tutto ciò che crea nei nostri settori. È quindi un personaggio che era di grandissima importanza per Cosa Nostra e nei suoi confronti è stata sviluppata un'attività investigativa che è durata 30 anni. Un'attività investigativa che ha impegnato uomini dello Stato e appartenenti a tutte le diverse forze di polizia. E quel che di volta in volta si evidenziava nell'ambito delle attività investigative portate a compimento è che aveva delle reti attorno a lui che lo sostenevano fatto di soggetti pienamente inseriti nell'economia del Paese. Imprenditori oppure professionisti o soggetti che comunque rappresentavano Cosa Nostra e indirettamente, attraverso spesso le forme più arcaiche di collegamento, il pizzino, riuscivano a collegarsi attraverso diversi intermediari a lui. E quel che ancora ha in qualche modo impressionato nella capacità di Matteo Messina Denaro è stato che è riuscito a rinnovare le reti di copertura, le reti attraverso le quali egli si interfacciava con Cosa Nostra e con le attività economiche che venivano svolte attraverso soggetti sempre diversi. Di volta in volta venivano individuati i componenti e le reti, si procedeva all'arresto e poi egli spariva. Spariva evidentemente allertato o comunque insospettito da elementi che lo portavano sempre lontano e interrompeva quindi qualunque collegamento con quei soggetti che venivano tratti in arresto. Ecco, su questo aspetto onorevole, lei dal 2017 al 2022 avrà sicuramente trovato un sacco di fiancheggiatori, molte persone che comunque facevano in modo che la latitanza di Matteo Messina Denaro proseguisse. Ma è possibile un boss di questa caratura che resti latitante per 30 anni e che goda di questi fiancheggiatori con tutta la terra bruciata che gli avete fatto attorno? Guardi, è avvenuto e come si è avvenuto? Questo al momento resta ancora inspiegabile. Come si eclissasse? Nel momento in cui veniva individuata la rete attraverso la quale egli si muoveva, la rete di cui si avvaleva per i rapporti con gli uomini con cui era collegato, ancora non si è riuscito ben a comprendere. È evidente che i sospetti sono tanti. Una latitanza che dura 30 anni fa pensare anche ad una rete che appartiene non solo a cosa nostra, ma soggetti esterni, probabilmente informati di quel che avveniva, che di volta lo potevano allertare, ma questi al momento sono sospetti. È evidente che se fino ad oggi nel corso delle indagini non è emerso il soggetto che ha portato le informazioni anche sotto questo profilo è stato particolarmente accorto. Le intercettazioni che si sono sviluppate negli anni sono state tantissime e questo ha dimostrato come lo Stato deve sempre insistere nel proprio atteggiamento rigoroso, serio e investigativo e come le indagini siano fondamentali. Non è possibile indebolire né gli strumenti che vengono utilizzati, gli strumenti legislativi. Se andiamo indietro nel tempo, nel 1982 venne istituita da Piero La Torre quella fattispecie di associazione mafiosa che non esisteva, la confisca dei patrimoni e poi all'indomani della strage di Capaci, la legge che inserì il 4 bis, cioè questa negazione dei benefici penitenziari a chi non collaborava con la giustizia e la detenzione speciale, il carcere di quell'articolo 41 bis. Sono tutti questi istituti che rappresentano la forza dello Stato, la forza del contrasto alle organizzazioni mafiose. Toccare questi strumenti significa indebolire quella forza che per anni è stata sviluppata e che ha indebolito le cosche, ma al tempo stesso oggi ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro. Mai indietreggiare, mai arretrare, questo ci insegna l'arresto di oggi. Oggi potranno essere utilizzate ancor più le componenti della polizia giudiziaria specializzate nel contrastare le mafie e soprattutto nell'infiltrazione all'economia legale e quindi alla protezione, potranno dedicarsi, del PNRR che è una delle priorità del nostro Paese. Certo, onorevole abbiamo raccolto il pensiero del consigliere toccato del Consiglio Superiore della Magistratura Nino Di Matteo che puntava il dito sulla possibilità che un boss della caratura di Matteo Messina Denaro collabori con la giustizia. Quanto secondo lei è possibile che questo accada? Beh, direi che per la caratura di Matteo Messina Denaro è evidentemente un'ipotesi remota. Purtuttavia, in presenza di condizioni di salute così gravi, in presenza di una latitanza che si è protratta per 30 anni, in presenza di un uomo che è stato sempre libero e che oggi è indebolito dalla malattia, qualche speranza, anche una forte speranza, la riponiamo. Se collaborasse Matteo Messina Denaro, quelle nebbie che si sono infittite nell'ambito delle indagini, nella ricostruzione dei grandi fatti di mafia, nelle stragi. Quegli aspetti ancora non evidenziati, quelli che si cercano da anni e soprattutto quelli che vogliono dimostrare se vi sia stata o meno la partecipazione di entità esterne, finalmente potrebbe essere disvelato. Ecco, abbiamo molta fiducia soprattutto in forze dell'ordine come il ROS che ha proceduto all'arresto con il generale Pasquale Angelo Santo, che peraltro conosco da oltre 30 anni, da capitano, uomo di un grandissimo impegno e quindi sicuramente di una proiezione anche nell'ambito di questo invito a collaborare e che ci fa ben sperare su quello che sarà il futuro del contrasto alle mafie. Allora, onorevole Derao, le chiedo di rimanere lì perché vorrei collegarmi sempre con Roma, quindi restiamo nella capitale perché le reazioni dal punto di vista politico sono state diverse. Io ringrazio Giorgia Finesi che ha atteso questo collegamento. Giorgia, le hai raccolte, ti prego, la tua cronaca. Sì, eccoci, buongiorno. Allora, al di là del fatto che abbiamo visto presente il Consiglio che ha volato immediatamente a Palermo per ringraziare non solo pubblicamente ma anche di persone ai vertici del ROS, la Procura, lo ha fatto stamattina e è ancora lì, ma immediate sono state le reazioni da diverse parti. A cominciare dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha ringraziato Rosca Rabinieri, Procura, ha chiamato al telefono il Ministro Piantedosi ringraziandolo per un successo tanto importante per il nostro Paese. Poi, Claudio, le reazioni sono state tutte unanime di soddisfazione dalla maggioranza alle opposizioni, a cominciare dai Presidenti di Camera e Senato che hanno parlato di una vittoria dello Stato, una giornata storica, la dimostrazione che supportare in qualche modo aiutare le forze dell'ordine facendo così i risultati arrivano. Queste sostanzialmente sono le reazioni che abbiamo raccolto. Una delle ultime, quella del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha parlato di una stagione drammatica della storia della Repubblica che finalmente si è chiusa, anche lui ringraziando appunto Rosca Rabinieri e Procura. Ti lascerei proprio alle parole del Ministro Salvini. Claudio e poi la linea può tornare a voi. Ha dato un messaggio sia al Comandante dell'Arma, Teoluzzi, che al Ministro Piantedosi. So che Giorgia sta andando a Palermo, quindi a prescindere da dove uno si trovi a lavorare questa mattina, diciamo che il coronamento di sacrifici di morti, perché il suddetto personaggio dovrà scontare alcuni argastoli, fra gli altri per la morte di Falcone Borsellino. Quindi a prescindere da cosa uno stia facendo questa mattina, è una bella giornata. Questa dunque la cronaca della politica. Allora, onorevole Federico Caffiore d'Arao, grazie per averci atteso. La domanda è, è un momento in cui il Paese si deve mostrare maturo, sufficientemente maturo, perché maggioranza e opposizione festeggiano insieme questo grande giorno? Sì, sicuramente festeggiano insieme, ma evidentemente con uno spirito diverso però, perché dobbiamo portare avanti un'azione di contrasto alle mafie. Non dobbiamo pensare che le mafie sono indebolite. Le mafie sono oggi più forti perché riescono a inserirsi nell'economia, riescono a infiltrarsi in modo silenzioso e questo è un grande pericolo per il nostro Paese. E quindi oggi bisogna adottare delle strategie molto più raffinate, delle modalità di azione che siano molto più forti, per cui partendo dagli strumenti legislativi, perché è sempre con gli strumenti legislativi che si fa il contrasto alle mafie, bisogna mai indebolirle le forze che partecipano a questo contrasto. Vede, se anche l'articolo 4b, si benefici penitenziari ai mafiosi dopo la sentenza, l'ordinanza della Corte Costituzionale che ha ampliato l'accesso ai benefici penitenziari o ha posto almeno le basi per questo. Un intervento legislativo che non ha tenuto conto di quella che è la differenza degli obblighi che hanno i collaboratori di giustizia rispetto ai mafiosi. Nonostante le richieste che anche il Movimento 5 Stelle ha sostenuto e soprattutto il Movimento 5 Stelle ha sostenuto, voleva dare alla nuova legge un quadro che fosse veramente forte e non più vantaggioso per i mafiosi rispetto a quello dei collaboratori di giustizia per quanto riguarda l'accesso ai benefici penitenziari. Abbiamo chiesto che fossero inserite alcune disposizioni, quelle che riguardavano il ravvedimento del mafioso, quello che riguardava l'obbligo di dichiarare il patrimonio del mafioso, quello di riguardare le ragioni per cui non si era collaborato per il mafioso e invece non porre questi paletti, non porre questi obblighi, che significa consentire al mafioso di poter accedere ai benefici penitenziari anche quando continua ad essere mafioso perché continua ad essere omertoso. E' questo che bisogna scardinare. Il pilastro dell'associazione mafiosa è l'omertà insieme all'intimidazione. Se non si scardina l'omertà le mafie non si battono. Innanzitutto bisogna quindi far comprendere che il mafioso che vuole accedere i benefici penitenziari deve dire il motivo per cui non ha inteso collaborare. Onorevole, abbiamo raccolto anche in una breve rassegna stampa quelle che involontariamente sono state confermate le parole dell'ex procuratore Caselli e cioè che ha detto che la mafia non è una storia italiana e basta. Si è evoluta, ha una grande capacità di infiltrarsi, ha una grande capacità di entrare in contesti fino a qualche decennio quasi impensabili. Allora le chiedo l'Europa come dovrebbe porsi perché non è un tema soltanto italiano nei confronti della mafia. Guardi, l'Italia in questo veramente è protagonista nella formazione. Sta comunicando all'Europa quali sono i modelli che vengono seguiti perché in Europa l'Andrangheta in particolare insieme a Cosa Nostra ma la stessa Camorra vede infiltrarsi le organizzazioni mafiose le quali reinvestono nei loro territori, nei vari territori dei paesi più evoluti, le ricchezze che provengono dal traffico di sostanze stupefacenti. Il traffico di sostanze stupefacenti, secondo una stima che risale a qualche anno fa e che oggi certamente va migliorata, riescono a trarre dal traffico di stupefacenti le organizzazioni mafiose circa 30 miliardi di euro l'anno. E questa è una cifra enorme che viene poi reinvestita nei territori, ma non soli d'Italia, soprattutto negli altri paesi. Ed infatti le mafie oggi riescono a muoversi creando luoghi in cui le residenze delle COSC finiscono per coprirsi attraverso attività economiche e in qualche modo si nascondono dietro le attività economiche. Oggi le mafie reinvestono nei vari settori in cui possono muoversi liberamente e di volta in volta individuano nei vari paesi la legislazione migliore per svolgere una determinata attività economica. L'antiriciclaggio italiano ha una forza straordinaria, ma non sempre gli stessi meccanismi vengono riscontrati negli altri paesi. Anzi, il più delle volte negli altri paesi gli investimenti vengono visti positivamente, ma insieme agli investimenti arrivano le organizzazioni mafiose che hanno delle ricchezze straordinarie e quindi aprono attività che vanno poi in concorrenza con l'impresa sana e l'impresa sana rispetto all'impresa mafiosa non può mai reggere il confronto. L'impresa mafiosa è sempre capace di reinvestire altro danaro in quell'attività economica e quindi riesce a offrire servizi e attività come nessun'altra impresa può. Credo che questo debba essere un impegno fondamentale per l'Europa. La sua è una fotografia impietosa di come le metastasi del cancro portino il male anche oltre confine e quindi è compito anche delle istituzioni italiane, delle forze dell'ordine spiegare anche a chi non conosce la mafia come si infiltra i segmenti dove trova più facilità di infiltrazione. Io la ringrazio, ringrazio l'onorevole Federico Caffiero de Rao per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro.